Benvenuti in Concorde. Concorde è un marchio di orologi svizzero che rappresenta l'eccellenza del made in Switzerland. Fondata nel 1908, la società si è affermata nel tempo come produttrice di orologi di lusso di alta qualità, noti per la loro precisione e affidabilità. Tra i modelli più iconici prodotti da Concorde spicca sicuramente il Delirium, lanciato nel 1979, che all'epoca era l'orologio più sottile al mondo con uno spessore di soli 1,98 mm. Grazie a questo capolavoro di tecnologia, il marchio si è guadagnato un posto di rilievo nell'Olimpo degli orologi svizzeri, diventando sinonimo di innovazione e creatività. Ma non è solo il modello Delirium a far brillare il marchio Concorde. Nel 2007, infatti, il modello C1 ha introdotto un design futuristico e audace, con una cassa in acciaio inossidabile satinato e finiture in oro rosa o giallo. La forma tondeggiante e sinuosa, abbinata al quadrante nero con finiture in acciaio inossidabile, dona a questo orologio un carattere deciso e grintoso, perfetto per chi ama distinguersi e non passare inosservato. Nel 2008, il marchio Concorde è stato acquisito dalla società svizzera di orologeria Movado Group, che ha continuato a produrre orologi di alta qualità sotto il marchio Concorde. La scelta di Movado Group di acquisire il marchio Concorde è stata dettata dalla volontà di ampliare il portafoglio prodotti, inserendo un brand di lusso con una forte identità e un'ampia gamma di modelli dalle linee eleganti e raffinate. Gli orologi Concorde sono noti per la loro precisione e affidabilità, utilizzando movimenti svizzeri di alta qualità e materiali pregiati come l'oro e i diamanti. Sono considerati oggetti di lusso per appassionati di orologi e collezionisti, grazie alla loro eccellente fattura e alla cura dei dettagli. I movimenti degli orologi Concorde sono prodotti internamente, in modo da garantire la massima qualità e precisione. La tecnologia utilizzata, infatti, è all'avanguardia e permette di raggiungere livelli di precisione estremamente elevati. Inoltre, il design degli orologi Concorde è curato in ogni minimo dettaglio, con linee eleganti e raffinate che si abbinano perfettamente alla meccanica sofisticata.